Ciao a tutti da AutoCazzaniga, in questo video come potete già vedere dall'immagine vi andiamo a mostrare la bontà della rigidezza del telaio della nuova Ford Fiesta ST 1500 EcoBoost da 200 cavalli. Vi ricordo che noi di AutoCazzaniga l'abbiamo disponibile in pronta consegna sia nella versione 3 che 5 porte. Guardate quanto è alzata da terra la ruota posteriore sinistra, Alessandro fai vedere quanto è alta da terra la ruota posteriore sinistra, questo è indice di un'elevata rigidità del telaio che si può benissimo apprezzare provando questa vettura. Ecco quindi che una vettura non solo potente ma anche dal telaio estremamente performante cosa che finora avevamo intravisto soltanto nella Clio RS stando in un'auto di questa categoria. Vi ricordo che da noi da noi potete trovare queste vetture in disponibilità sia in pronta consegna che da ordinare come a voi meglio piace. Potete consultare la scheda dettagliata sul nostro sito e guardare sempre qui su youtube gli altri video relativi alla nuova Ford Fiesta ST. AutoCazzaniga vi saluta e vi dà un arrivederci al prossimo video. Un saluto da Davide Cazzaniga. Ciao a tutti!